Ciao carissimi e carissime, benvenuti a tutti su Goldi Unicorn Art. Incomincio a mischiare le carte della vibrazione, poi faremo una croce celtica con i tarocchi dei cancelli delle porte perché voglio vedere sull'amore per te. Allora queste sono già uscite, allora a questo punto taglio e ne prendo una e voglio vedere chi è il tuo vero amore. Allora vediamo un po' queste, quante ne sono uscite? Tre. Allora vediamo. Allora intanto qui ti dice che potrebbe essere una persona che magari già conosci ma non hai ancora riconosciuto oppure questa persona non ha riconosciuto te. Ricordati che l'universo è nelle tue mani, puoi cambiare le cose, quindi anche se le cose adesso non funzionano è molto probabile che funzioneranno perché qui c'è un destino, quindi proprio io volevo andare a fare una stesa sull'amore, volevo andare a vedere chi è la persona giusta per te, anche se la conosci già, naturalmente. Qui ci sono le scritte nel cielo, i destini, quindi qui c'è qualcosa di destinato. Andiamo a vedere cosa ci dice la croce celtica e teniamo queste carte che ci danno un imprinting di quello che andremo a vedere. Quindi mischiamo e vi ringrazio sempre naturalmente di essere qui, è un grande piacere essere qui con voi. Allora, andiamo a scoprire la verità, andiamo a scoprire le vibrazioni, le energie e la motivazione per farti ottenere ciò che tu hai nel più profondo del tuo cuore, della tua anima. Allora, tagliamo, vediamo che cosa ci dice la croce celtica. Allora, la prima la pesco così. Allora, avevamo appena detto, ricordati che l'universo è nelle tue mani, quindi la prima carta ti dice, tu hai tante chiavi, hai tante possibilità. Cosa significa in questo caso sull'amore con queste tre carte che sono uscite? Perché sapete che le carte cambiano significato a seconda delle carte anche che vengono prima. Che secondo me tu hai diverse possibilità, hai diverse strade per raggiungere il tuo amore o farti raggiungere dal tuo amore, come se tu ti trovassi davanti a diverse strade e queste strade possono portarti sia alla tua persona specifica, quella che conosci già, sia a una persona che devi ancora conoscere, perché potresti essere naturalmente single. Però è come se avessi una guida vicino a te che ti dicesse, guarda, secondo me, se ascolti bene il tuo sentire, ricordati che la chiave, adesso andiamo a vedere di più, c'è, c'è già. Vedi, tu vuoi una famiglia, ma è come se in questo momento tu dicessi, ma no, io con questa persona che conosco la famiglia non è possibile, per questa e questa ragione, oppure sì, voglio una famiglia, però bisogna vedere, magari poi mi piace una persona, ma è una persona non pronta a una famiglia e così via. È chiaro che bisogna prendere la nostra lavagna dei pensieri e cancellare tutto, perché quando tu vuoi usare una chiave, usi una chiave per una porta nuova, aprirai una porta nuova. Perché? Perché se tu ti porti dietro tutti questi dubbi, quella persona specifica o la tua persona dell'anima non sarà pronta per te, perché tu non sei pronta. Quindi non avere dubbi, non dubitare, perché i tuoi dubbi fanno rallentare la manifestazione. Quindi è come se tu dicessi, eh, io voglio questa cosa, ma questa persona no. No, tu vuoi questa cosa e il tuo specchio vuole quest'altra cosa. L'importante è essere decisi. Vediamo qui che cosa c'è. Vedo che tu sogni molto, hai diversi sogni, qui l'avevamo già visto, hai diversi sogni, ma puoi realizzarne anche più di uno comunque. Sì, stiamo guardando una persona d'amore, però realizzare più di uno potrebbe anche essere che magari tu ti stai fissandolo con una persona specifica e magari c'è una persona disposta a darti tutto quello che la persona specifica non ti dà. Comunque, ritorniamo ai tuoi sogni. Questi sono i tuoi sogni. Tu ne hai tanti, non solo d'amore, eh, comunque. E comunque qui spicca anche il sogno dell'amore, perché l'energia delle carte è questa, cioè qualcosa che fino adesso non hai ottenuto come volevi, no? Qualcosa che però in un certo senso è nel tuo destino, le scritte nel cielo, ma non appare. Guarda, è tanto che cerchi, che potrebbe anche voler dire che cerchi nel tuo partner quello che tu veramente vuoi. È tanto che vorresti che il tuo partner facesse questo, si comportasse così, oppure vorresti la persona che senti nel cuore, ma pensi che potrebbe non avere tutte le peculiarità che tu vuoi. Vediamo sul presente cosa c'è. Vedi che poi alla fine tu sei il pittore della tua vita, tu riesci proprio con le tue idee, con le tue esperienze, ecco, quindi tu riesci, come dire, a espanderti. La pittura può rappresentare anche la scrittura, ma rappresenta anche il focus, no? Quindi tu devi mettere proprio l'intenzione chiara di creare la tua stessa vita. Tu sei con lei o colui che produce la tua realtà, no? Che crea la tua realtà. Quindi non farti controllare, lasciati libera come un quadro che crea. Tu hai già creato questo quadro da qualche parte di te. Si deve solo manifestare, è come se fosse nell'invisibile questo quadro. Vediamo che cosa c'è qui. Guarda, io vedo che gioirai, gioirai con delle tue amiche, con delle persone che conosci, avrai tanta gioia, riuscirai proprio a direzionare, secondo me, i tuoi pensieri per quanto riguarda l'amore. Diciamo che tu ti stai predisponendo proprio per manifestare la persona specifica o la persona giusta che desideri. Andiamo avanti con la croce celtica e vediamo. Beh, d'altronde tu sei poi una persona pratica, sei una regina di denari, quindi ti piace anche la bella vita, ti piacciono le belle cose. Alle volte sei persino troppo razionale e sognare ti sembra una cosa che ti fa dire. I sogni sono una cosa, la realtà è un'altra. Però guarda che tu ci sei andata molto vicino. Tu hai un grande dono, forse, che non sai di avere, che oppure ultimamente, siccome non sei riuscito a manifestare quello che volevi, hai pensato non riesco più a manifestare quello che voglio, ma questo dono rimane dentro di te. Diciamo che lo devi riattivare. È il dono del rabdomante che cerca l'acqua, ovvero il rabdomante rappresenta metaforicamente anche colui che cerca le emozioni, che cerca le emozioni d'amore. Quindi ultimamente tu sei un po' giù di emozioni, hai bisogno di più energia vitale, di più energia emotiva, di immergerti nell'amore, nelle sensazioni d'amore, non nelle critiche, nelle disillusioni. Allora, qui alle volte ti senti appunto, no, il tuo razionale ti fa dire, no, non è possibile, però ricordati che tanto, anche se tu dici di noi i tuoi sogni, qui c'è un destino, qui c'è una persona proprio destinata a te, comunque vada, è già intorno a te e prima o poi la manifesterai. Prendo apposta le carte dei cancelli, guarda che bella chiave che c'è, ricordati la prima carta della croce celtica, sono state proprio le chiavi. Ciò significa che tu hai le chiavi, le chiavi per trovare questo amore, che non devi fare altro che individuarlo, soprattutto dentro di te. Adesso poi andiamo alla descrizione specifica di questo amore, naturalmente. Quindi butta giù questo muro, usa le tue energie, le tue facoltà, perché tu hai delle facoltà molto intuitive, dei doni molto grandi, per ricreare questo focolare, che tu lo vuoi, questo focolare domestico, tu hai bisogno di calore, tu vuoi calore, e quindi perché non dovresti riuscirci? Ci riuscirai benissimo. Quindi, detto questo, io adesso voglio tenere queste due carte, l'allegria che farai, quindi vedi che qualcosa proprio ben accade. Adesso io voglio mettere bene in evidenza queste carte che rappresentano le tue chiavi, la prima carta della croce celtica e il tuo futuro, cioè, no, questa era in questa posizione, quindi è quello che non riesci ancora a manifestare, a sbloccare, cioè il sogno della tua manifestazione. Allora, andiamo un po' a vedere con queste carte. Allora, vediamo. Vediamo, rimanendo in questa ferma energia, la prima carta che viene su queste, quindi lasciamo questo tipo di energie e vediamo la prima carta che viene. Due ne sono venute. Allora, allora, vedi, sei proprio una regina di denari, quindi prima o poi riesci a ottenere quello che vuoi. Dovresti semplicemente abbandonarti un po' di più alla parte emotiva, perché tu l'hai dimenticata, era venuto sul passato, il rabdomante. È come se tu quella parte emotiva così, che so, così giovanile, come quando da giovane ti innamori magari a prima vista, succede anche da D'Augustiai, non è che succede solo da giovani, però il giovane è più inesperto, non è ancora disincantato, quindi il giovane o la persona giovane tende a proiettare tantissimo se stesso in un amore che vede, quindi tende ad avere dei colpi di fulmine. Ecco, tu questo aspetto di te l'hai dimenticato, perché nel frattempo hai incominciato la tua vita anche lavorativa, la tua vita razionale, hai avuto le tue esperienze, quindi è come se dicesse a te stessa io voglio dei fatti, no? Quindi ti sei un po' cristallizzata nel io voglio dei fatti, ed è vero, hai anche ragione, però è anche vero che bisogna ricordarsi sempre la parte immaginativa, perché è quella creativa, e non è che bisogna dire vabbè, è solo un'illusione, solo perché se tu dici è solo un'illusione, allora sarà solo un'illusione, perché l'universo è uno specchio, ma nel momento in cui tu dici io voglio veramente intenzionalmente che questo sogno diventi realtà, allora diventa, viene fuori tutto il tuo potere, eh? Guarda, qui uscirai, diciamo, da un conflitto, eh? Quindi riuscirai a fare la scelta giusta, lascerai i dolori, l'immobilismo per andare proprio dall'immobilismo a qualcosa di grande, alla realizzazione del tuo sogno d'amore, vedi che qui c'è un bel principe che come abbiamo già visto ti è destinato, quindi io adesso su questo incontro, su questa magia, su questo cambiamento voglio vedere come ti vede o come ti vedrà la persona in questione, Quindi questa persona che ti è destinata, vediamo. Allora, ti vedrà come il suo futuro, assolutamente, oltre al fatto che ti vedrà lucente, vedrà il tuo aspetto, secondo me, acquoso, quindi emotivo, quindi una persona che ti vedrà lucente, ti vedrà brillante, è come se sentisse la tua estensione energetica, è come se sentisse che tu ti sei ricollegata alla fonte, che tu lo conosca o che non lo conosca, quindi è come se tu ti fossi, anzi, stai per farlo, ti riallinei al tuo stato di benessere e ritorni quel rabdomante che è sempre stato dentro di te, che hai accantonato nel tempo, ritrovi il tuo entusiasmo e questa persona sente questo tipo di energia, sente che tu ti sei in qualche modo allineata all'universo oppure allineata all'energia della coppia in senso positivo, vediamo ancora come ti vede questa persona, sei il suo futuro, lo sente per forza perché qui abbiamo come ho detto la lascio qui le scritte nel cielo, due destini che si vogliono incontrare, guarda, abbiamo il passato e il futuro, quindi molte persone conoscono bene questa persona, molte persone la conoscono, che so, a livello invisibile energetico, magari è stata una persona che ti è sempre passata a fianco ma non vi siete conosciuti a livello fisico, a livello corporeo, ma le vostre energie si conoscono già, perché io sto guardando un po', visto che questa carta mi ha detto questo, il vostro destino, chi è che ti è destinato, chi è una persona che ha avuto un passato o carmico con te o avete avuto un passato, una relazione di passato e vuole il futuro con te, questa persona, tu sei la sua salvezza, chissà perché sei la sua salvezza, visto che stiamo guardando come ti vede questa persona, se sei la sua salvezza io voglio vedere questa persona qui, diciamo un po', come sta questa persona, vediamo, prendiamo un po' queste, allora, sei la sua salvezza cosa per cosa, beh, perché sei un nuovo inizio di vita, evidentemente qualsiasi cosa sia successa nella vita di questa persona, sa, adesso sa, questa persona che tu sei il suo nuovo inizio, ecco il mago, è naturalmente una persona che non è arrivata questa voglia di nuovo inizio per caso, non è, non dice a caso tu sei la mia salvezza, è come se lo sapesse, non lo dice, non dice tu sei la mia salvezza perché mi devi aiutare in questo, quell'altro, non è quello il senso, è sei la mia salvezza perché senza di te finché non ti trovavo o non ti riconoscevo, se ti conosce, se ti conosce, vi conoscete già, finché non ti trovavo io mi sentivo un po' come appeso, mi sentivo un po' sottosopra, certamente l'appeso è una carta evolutiva, anche l'appeso parla di nuovo inizio attraverso anche delle sofferenze, quindi questa persona senz'altro sa, lo sente, perché è scritto da qualche parte che tu sei il suo futuro, che sei, perché sei stata il suo passato in questa vita o in altre vite e che sei il suo nuovo inizio e sei la sua salvezza perché dai un senso alla sua incarnazione qui, vediamo ancora questa persona e vedi, ti vede proprio come una maestra, una saggia, come se voi davvero aveste fatto un lungo percorso insieme chissà dove, chissà da quanto tempo, quindi ecco perché le vostre strade sono scritte nel cielo come diceva appunto questa carta, le scritte nel cielo sono i vostri nomi diciamo, perché questa persona non poteva altro che, guardate, tre arcani maggiori così, non poteva altro che desiderare la salvezza insieme a te, come se ci fosse un maschile, un femminile che si devono riunire, uno Ying, uno Yang che si devono riunire, eh, vediamo altri aspetti di questa persona, tu sei impressa questa persona, beh, senz'altro è una persona che ha attraversato le difficoltà della vita, è stata delusa, se anche autodelusa, ha avuto diverse sofferenze, sia nell'amore, ma anche può averle avute nella sua vita in genere, nell'infanzia, nell'adolescenza, nel lavoro, è una persona che ha sofferto, d'altronde è proprio attraverso la sofferenza che poi ci sono i grandi cambiamenti, eh, quindi, guardate, un altro arcano, quindi non ha fatto altro a un certo punto tutta la vita sentirsi mancante, sofferente di qualcosa finché ha trovato le stelle, ha trovato la sua strada, ha trovato la sua guida interiore, tu sei la persona che ha riconosciuto, se siete stati insieme, prima non ti ha riconosciuto questa persona, lo sapeva a livello inconscio, ma non ti ha riconosciuto a livello razionale, adesso invece è una persona pronta a riconoscerti a livello interiore e razionale, guardate, eh, qui abbiamo proprio qualcosa che cambia, secondo me questa persona ama molto anche lavorare, tanto per descrivere questa persona e è una persona che nella vita può essere stata competitiva con tutto, una persona che vuole vincere, diciamo, lavorativamente e vuole vincere anche adesso, vuole vincere, la vittoria per questa persona rappresenta la relazione con te, eh, quindi certo, ha avuto delle, vuole vincere perché secondo me questa persona è stata povera, è riuscito con la forza del proprio lavoro a raggiungere dei grandi risultati ed è una persona che è diventata generosa, ma ha avuto anche bisogno d'aiuto, è stato aiutato anche nella vita che può essere stato aiutato da qualcuno fisicamente o da qualcuno energeticamente o essere aiutato nel senso che ha avuto delle spinte, delle chiarezze, ecco, una persona che però ce l'ha sempre fatta con le proprie forze, tanto per descriverti questa persona e senz'altro è una persona che vuole vincere, quindi vuole vincere come carattere intendo adesso perché ti sto descrivendo non che sia un vincente per partito preso, no, è un vincente perché ragiona sulle cose, perché ha ragionato, perché ha sofferto, perché ha perduto tanto e ha guadagnato tanto, tanto ha perduto, tanto è riuscito a guadagnarsi, senz'altro il lavoro gli dà molta forza e molta gioia, quindi è una persona che secondo me non ha controllato i pensieri fino a un certo punto della sua vita, quindi poteva anche essere una persona che a livello emotivo non si sapeva contenere, quindi poteva avere un umore instabile, poteva avere diverse focalizzazioni, poteva avere non voglia di una relazione, cioè questo è un po' la sua personalità di prima, ecco, perché qui abbiamo già la chiarezza di una persona che vuole proprio te, ecco, quindi vediamo ancora, adesso abbiamo descritto la sua personalità, vediamo cosa sente, allora, abbiamo parlato che vuole un nuovo inizio con te, che ti vede come saggia, come ti vede se la sua salvezza sei nel suo destino, ma vediamo anche verso di te, proprio più nel dettaglio, ti percepisce come una persona che ha sofferto molto e che ha dato nella vita molta importanza all'amore, per quanto riguarda invece la vita pratica lavorativa, visto che tu sei uscita come regina di denari, secondo me avete molte similitudini, siete due persone che amate tanto lavorare, perché il lavoro vi nobilita, diciamo, non siete arrivisti, ecco, ma vi nobilita, vi fa stare bene, è l'espressione di voi stessi, senz'altro sa che anche tu hai avuto delle grandi sofferenze per quanto riguarda delle grandi, delle sofferenze, magari le avete avuto proprio fra di voi, delle sofferenze per quanto riguarda la mancanza dell'amore giusto, non la mancanza dell'amore, la mancanza del partner, la mancanza delle persone intorno a te, ma un senso di mancanza vi ha sempre un po' logorato entrambi, perché quando due persone si devono incontrare perché sono destinate, hanno una strada che a un certo punto si deve incontrare, che magari uno dei due non la riconosce e l'altro soffre, quindi, secondo me, sa che anche tu hai sentito la mancanza dell'amore vero, ecco, adesso però è molto potente questa stesa, è pienissima proprio di arcani maggiori, questa persona nelle sue indecisioni, perché il carro può rappresentare anche due strade che si devono prendere, probabilmente c'è stato un lungo periodo in cui questa persona non ha scelto la strada della luce o della luce verso di te, ma ha scelto lato un po' più ombra, c'è stato un lungo periodo perché non lo faceva apposta, la sua evoluzione non era abbastanza chiara, secondo me non era abbastanza gioioso come persona, adesso è più gioioso perché ha preso coscienza e secondo me ti ha trovato o ti troverà proprio perché ha contattato la sua gioia, la sua voglia di vivere, quindi è come se il suo livello emotivo si fosse sviluppato nel tempo, prima era una persona un po' umorale questa, invece adesso è più stabile e quindi secondo me proprio il suo stato emotivo è cambiato, è più gioioso per quello che vuole un nuovo inizio e per quello che vuole proprio te, questa persona, quindi secondo me è come una come dire una vibrazione, una strada che vi fa vivere, vi farà vivere questo grande momento, nulla accade per caso, allora quindi i suoi prossimi passi quali saranno? guarda un po' io amo il re di coppe moltissimo perché è il più puro diciamo, no? ma anche se poi quello che conta sono le carte vicino, il senso della stesa, il significato fine a se stesso è troppo povero di significati, bisogna sempre guardarlo nella sua interpretazione ma essendo il re del cuore proprio che ha un grande chakra del cuore questo re significa che qui abbiamo una persona di cuore, una persona e ricordatevi che le persone che sanno mostrare il loro cuore sono le più forti perché è un conto dire forte personalità, un conto dire sono forti a livello energetico, a livello energetico qui abbiamo proprio il maestro del cuore quindi questo diciamo le sue prossime mosse saranno quelle di mostrarti il suo cuore come mai te l'ha mostrato prima perché perché prima non te lo poteva mostrare non l'aveva trovato neanche lui quindi non ti poteva mostrare qualcosa che non c'era quindi guarda 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 quando dico quali sono le sue azioni guardano guarda qui le cose come stanno cambiando allora cioè le energie delle carte come prendono proprio l'energia vibrante dell'amore proprio il re di coppe che chiama la carta degli amanti del vostro incontro quindi questo incontro così desiderato da dieci di coppe nel giardino fiorito con l'arcobaleno pieno di coppe che diventa questo amore d'altronde era il tuo desiderio se ti ricordi di focolare domestico che non riuscivi come dire a realizzare no e invece i fatti quali saranno perché qui abbiamo chiesto i fatti che questa persona arriverà e ti mostrerà l'amore sopra di voi c'è un angelo che vi guida che vi guarda perché le scritte nel cielo dicevano che vi dovevate incontrare assolutamente wow che potenza l'ho sentita proprio bella piena ricca questa stesa vediamo un po' quindi i fatti sono questi i fatti che farà questa persona sono il signore del tuo cuore vediamo e tu sarai ben felice perché qui c'è un abbraccio che tu desideravi quindi il lavoro che tu hai fatto per arrivare a manifestare questa persona è sicuramente ricordarti che hai le chiavi delle tue emozioni come abbiamo visto in tutta la stesa e che puoi cambiare le cose dipingere la tua vita creare la tua vita non rimandare perché se rimandi tu stai dicendo all'esistenza ci credo e non ci credo ma chissà guarda tu l'importante è che ti guardi dentro volgersi all'interno significa all'interno troverai queste chiavi le chiavi della tua sincerità della tua serenità diciamo della tua voglia di amare senza la nube della mente la coltre della nube della mente che ti dice chissà se poi succederà non succede mai niente queste sono le tue credenze che hanno bisogno necessariamente di essere sconfitte perché finché ci saranno queste credenze che ti dicono che non accadrà non accadrà perché lo specchio dell'universo è uno specchio e quindi se tu ridi riderà se tu non credi non crederà lo specchio ti dice esattamente quello che tu dici non credo non succede mai niente e allora non succederà stai tranquillo che tutto quello che tu credi e senti lo avrai nel bene nel male guarda il mutamento è in atto guardati dentro perché ricordati che c'è il rabdomante dentro di te che sa cercare le emozioni se tu le trovi dentro di te le troverai anche all'esterno quindi detto questo io adesso voglio vedere un messaggio quindi vediamo cosa ti dice il divino allora ti dice che c'è questo lato scuro che in questo momento è stato presente è stato necessario probabilmente a entrambi per anche per quello che ha visto la stesa per creare questa per l'energia della crescita spirituale qui l'angelo Yehuyah ti dice che vedrai che saranno eliminate le paure complessi le colpe perché tra di voi c'è come un cordone umbilicale ma questo cordone umbilicale è anche collegato con l'universo è una connessione diretta con l'universo con il creatore quindi se tu vuoi ritrovare questo amore che ti è destinato ricordati che da qualche parte è scritto nel cielo che i destini come ti diceva questa carta sono i vostri quindi questa carta è in grado ti dice questa energia di trasformare i comportamenti e farli diventare d'altronde abbiamo visto la carta del mutamento farli diventare creativi guarda qui non ci sarà più lotta se hai avuto una relazione con questa persona perché non sarà più necessaria la lotta non avrete più bisogno di dinamiche perché questa carta il divino ti dice che l'angelo mehael ti protegge verrete protetti come coppia perché non è una coppia che accade che arriva a caso è questa vostra quindi queste energie negative verranno disattivate ora io siccome questa è una stesa molto potente vi voglio dare dei numeri allora intanto vi voglio dare il 18 il 37 e il 42 poi 32 o 42 no 18 perché sono scritti strani questi numeri 32 e 42 poi vi do l'8 guardiamo quelli di qua il 14 il 59 il 33 so che i numeri vi piacciono molti di voi conoscono molto bene la numerologia ma qui ve li do un po' come numeri magici anche perché con questo inizio di stesa con queste chiavi non posso non darvi dei numeri perché per molti di voi sono molto significativi lo leggo poi anche da quello che mi scrivete nei commenti quindi carissimi e carissime io vi auguro il meglio per tutto il meglio per voi e vi mando un grande namaste a tutti ciao ciao